La voglia di volare in alto è appena cominciata per Jacopo Sala. Prima italiana a Vesela, Maia e L'Hamburgo, il venterne bergamasco sabato scorso ha segnato il suo primo gol in Bundesliga e da professionista. Lo ha fatto contro il Bayer, il club più titolato di Germania. Insomma, un biglietto da visita niente male per presentarsi nel calcio che conta. È là dove ho segnato il mio primo gol in Bundesliga ed è lì dove ho esultato sotto tutta la curva ed è stato veramente emozionante. Sì, è stata una giornata perfetta per me, per la squadra soprattutto, perché abbiamo giocato una grande partita contro il Bayer, che è, come hai detto tu, una delle squadre più titolate in Germania. E dopo per me è arrivata la soddisfazione personale con un bel gol e sono contento, sono contento. Qual è stata la prima cosa a cui hai pensato dopo il gol? Perché ti abbiamo visto esultare, urlare, correre verso la telecamera come il Tardelli della finale dell'82. Ma no, sono esploso, è un'esplosione che è partita dall'interno per i mesi passati infortunati. Appena ho visto la palla entrare non ho capito più niente, quindi sono esploso, sono andato dai fans. E' stato bello che tutta la squadra è venuta a abbracciarmi, è stato importante per me e ero veramente felice. Fino a sabato scorso però in pochi qui in Germania conoscevano Jacopo Sala, mentre ora punta tutta l'attenzione addosso. Come stai vivendo questo momento? Sto cercando di rimanere calmo, di allenarmi duramente perché siamo in tanti in squadra, tutti vogliono giocare, tutti vogliono dimostrare al mister di poter giocare e quindi devo allenarmi duramente per avere ancora la fiducia del mister. Ci vogliono le squadre straniere per far scoprire e far credere nei giovani talenti italiani? Non credo, comunque in Italia altri giovani si stanno mettendo in mostra nelle squadre italiane come la Roma, Fabio o Mattia Destro nel Siena, Gabbiadini nel Atalanta, il Cearagli nel Milan. Quindi credo che bisognerebbe puntare molto di più sui giovani in tutto il mondo, avere fiducia in loro, farli crescere, ma credo che in questo stia cambiando anche in Italia. Qual è a fine stagione l'obiettivo di Jacopo Sala? Restare qui in Germania o ritornare in Italia? Io ho un contratto di tre anni, ad Hamburgo mi trovo bene, sto avendo spazio, mi sta dando fiducia, quindi cercherò di ripagare questa fiducia e per adesso penso solo ad Hamburgo.